Il meteo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al meteo di Filorouge TV Vediamo insieme le previsioni di venerdì 30 luglio Un campo di alte pressioni abbraccia la regione Garantendo tempo stabile ed assolato Sul litorale tirrenico, ionico, meridionale Sull'Affennino e nelle zone interne Cieli sereni per l'intera giornata Venti deboli, basso tirreno, canale e mare di Sicilia calmo Vediamo ora le temperature Palermo 38,25 Trapani 34,23 Agrigento 31,21 Enna 34,25 Caltanissetta 40,23 Ragusa 37,26 Siracusa 37,24 Catania 43,25 Messina 38,25 Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie e appuntamento al meteo di domani